Potrebbero cercare di abbatterti, rimani a distanza. Sì, signore. Restiamo concentrati, controllati i vostri settori. Ecco l'avamposto per le comunicazioni. Ricevo un segnale d'aiuto. Potrebbero essere i solvetti dispersi, controlliamo. Portaci su quel tramontario. Jun, tieni d'occhio il cielo. Sì. Andiamo, Six. Ok, squadra Nobel, sparfagliatevi. State allerta. Ricevo un segnale d'aiuto a Pave niente da sud. Siamo vicini. Ricevuto. Occhi aperti. Radiofono localizzato. Abbiamo gli appunti di calore nella struttura piovante. Ma è militare. Allora dove sono i dispersi? Movimento. Sono in ascolto, comandante. Che cosa vede in passo? Abbiamo dei soldati deceduti. C'è movimento fuori dalla vostra struttura. No, per tu, vai verso. Sembra che li abbiano interrogati. Internazionale. Ecco lì, ecco lì. Sparta il supporto. Mashi. Charlie 1, all'alto. Sono diretti al pianeta rato. Sietevi al livello inferiore. Saratevi a tre. No, per l'iter. La mette da sparco le mie. Sta arrivando un falco. Molto pesante su. Cambio di posizione. Benissimo. Si sta cercando di ritardo. Ci abbiamo messo più del previsto, comandante. Ho perforato metà... Bloccateli finché Kat non manometto i controlli. State giù, squadra Nobel. State giù. Persagli neutralizzati. Kat, dobbiamo avvertire Holland. Raggiungi subito la bamposta del ripetitore. Capo, rilevo attività verso est. Mi sparano. Una venta da sparco spiriti in arrivo. Ecco, ho quasi fatto. Fatto. Ho fermo. Tutto a posto. Comandante, concentrazione di attività ospedia. Ci sono solo l'altro. Stanno. Io ti compro. Amicino a noi. Siamo operativi. Grazie a tutti!